Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto da CalcioToro, bentornati in questo nuovo video YouTube. Video post partita di Torino-Lazio, finita con il risultato di 4-3 per i Bianco Celesti. No, non sono impazzito, sono arrabbiato abbastanza, ovviamente, Rosico, naturalmente, però sono calmo, perché la partita ha avuto un risvolto talmente comico che alla fine mi sono messo a ridere, onestamente. Mi sono arrabbiato molto quando Verdi ha sbagliato il gol a porta vuota nel secondo tempo, l'ha veramente tantissimo, mi sono arrabbiato molto con i palli inutili di Rincon, mi sono arrabbiato molto con Sirigu, che merita una tirata d'orecchie, ma ci arriviamo più tardi, perché questo video sarà tutto un puntare e un dito continuo, eh. Cioè, ragazzi, ci tengo a sottolinearlo, nessuna analisi di nessun tipo, e quindi niente. Sì, però sono calmo, ci saranno dei momenti in cui magari alzerò il volume della voce, ma per il resto calmo, almeno cerco di esserlo. Facciamo un'analisi oggettiva e cerchiamo di capire perché questo Torino non va. Sedicesimo per possesso palla, ed è la squadra che ha completato, che ha fatto, anzi, meno passaggi in tutta la Serie A. Ora, questi sono dei dati interessanti, e se vogliamo possiamo dare la colpa a Marco Giampaolo, ma io punterei il dito e soprattutto cercherei la soluzione ai nostri problemi alla radice. La società. Ovevo che critichi sempre la società? Sì, la critico sempre, e continuerò a criticarla, aspramente, finché vedremo questi risultati in campo, perché l'errore sta sempre alla base, in una programmazione inesistente delle tempistiche pessime. È stato preso Marco Giampaolo? Bene, sai che Marco Giampaolo gioca con il 4-3-1-2, massimo due-tre tocchi, possesso palla. Gli compri dei palleggiatori. Gli compri giocatori nei ruoli chiari. Non è stato fatto. Questi sono i risultati. Questa squadra può prenderla e può portarla avanti un minestraro, semplicemente, se vogliamo salvarci, adesso probabilmente vediamo, verrà mantenuto Giampaolo, io ho ancora fiducia nell'annatore alla società pure, ma cosa può fare più di questo? Nulla, perché questi sono i giocatori, ragazzi. E quindi prendiamo un minestraro, prendiamo un maran, prendiamo un annatore di questo tipo, non specificatamente lui, ma prendiamo un annatore che con questa squadra possa fare qualcosa di positivo, che è la salvezza. Progressi visti con il sassuolo, praticamente totalmente annullati in questa partita, ma ripeto, non do la colpa principalmente a Marco Giampaolo. E c'è da contare che, ovviamente, come al solito, il Torino finisce in delle situazioni di sfiga veramente clamorose, come ad esempio il gol finale di Caicedo, che è una serie di rimpalli, una mezza papera di Sirigu, però la sfortuna e la fortuna te le crei, entrambe. E la Lazio si è creata i gol nei minuti supplementari di recupero, si è guadagnata il calcio di rigore e si è guadagnata meritatamente il gol del 4-3. E quindi c'è poco da dire sotto questo punto di vista. Cioè, noi possiamo stare a questionare qua l'arbitro, possiamo attaccarci ad alibi, che non esistono ovviamente, l'arbitraggio è stato ottimo, secondo me, a parte il nostro primo rigore che probabilmente, ecco, non c'era onestamente. Però, ragazzi, seriamente, è possibile, è mai possibile. Il risultato è più importante della prestazione. Il risultato è casuale e la prestazione no. Ma in questo momento Giampaolo ha bisogno di risultati e lo dimostra ancora il fatto che per l'ennesima volta siamo passati alla difesa a 5. E con una difesa a 5 e una difesa che non ha subito nulla per 90 minuti di recupero, o quasi nulla, guardate che cosa è successo. Guardate che cosa è successo. Cioè, è una roba incommentabile. Vogliamo parlare dei gol della Lazio. Il primo, ottimo inserimento di Pereira, Rodriguez sulla faccia, come al solito, inesistente, e anche oggi partita pessima di Riccardo Rodriguez, come al solito, si conferma in modo negativo, e non mi piace. Il secondo è un'ingenuità colossale di Rincon, colossale di Rincon, palleggiatore e play basso del toro. Ricordiamocela questa cosa. Ingenuità colossale di Rincon, papra di Sirigu. Errore di Sirigu, non sarà papra, ma errore. E questo va sottolineato, ragazzi, perché è la terza partita dove Sirigu non dà più sicurezze. E se pure i veterani, pure i giocatori su cui contiamo solitamente, cominciano a traballare sotto questo punto di vista, è un disastro. Perché già i giocatori base che stanno a centrocampo e che dovrebbero guidare la squadra non ci stanno. Se poi, persino Sirigu, comincia a fare errori, è finita, è finita. Veramente, basta, stop. Salvatore, cavolo, ritorna in te. Il terzo è un mani, in cui lui è entrato per preservare il risultato, invece causa il rigore del 3-3. E vabbè, ce ne faremo una ragione. E poi il 4-3, che è un rimpallo continuo, sempre a causa di inculue, poiché hai sedo che si trova la palla là. E Sirigu ancora una volta, impreciso, che prende un gol ridicolo. Lo possiamo dire, prende un gol ridicolo. Detto questo, ragazzi, mi preoccupa molto la fase difensiva, che a tratti sembra impeccabile, e a tratti poi si sbaglia completamente. Singolarmente i giocatori, se presi singolarmente, fanno bene, e poi non so che cosa succede. I giocatori singolarmente fanno bene e poi complessivamente prendono gol. E subiamo azioni e occasioni da parte degli avversari semplicemente ridicole. Semplicemente ridicole. E un'altra cosa che mi viene da dire, i dati che ho detto all'inizio, spero di averli detti all'inizio, non mi ricordo neanche, cioè sedicesimo per possesso palla e siamo la squadra che ha completato meno passaggi del campionato, sono indicativi per quanto riguarda anche la nostra azione offensiva e la costruzione di gioco. Perché ragazzi, il Torino ci prova, ma non riesce. Non riesce e si vede e i dati lo confermano. Il Torino non è una squadra costruita per fare questo tipo di calcio. Oltretutto, vogliamo parlare dei gol, perché c'è chi mi dice non abbiamo problemi a livello offensivo, guarda, ne abbiamo realizzati tanti, sì, ma questi gol sono casuali, non sono frutto di azioni preparate in allenamento, non sono frutto di triangolazioni, di ottimo lavoro, cioè quelli contro il Sassuolo sono frutto di questo, ma questi no. Questi no, ragazzi, è semplice, per me è molto facile da comprendere il concetto, cioè vogliamo analizzare gol per gol la partita del Torino? Quelli del Lazio li abbiamo già visti. Prendiamo quelli del Toro, il primo, il primo è un calcio piazzato da corner, Verdi mette la palla dentro e stacca Bremer di testa, una situazione preparata, certamente, ma non è un'azione costruita e i calci piazzati sono sempre stati un'arma di questo Toro fin dai tempi di Mazzarri. È una squadra ben collaudata sotto questo punto di vista e adesso stiamo vivendo di quelli. Il secondo è un rigore generoso guadagnato dal solito Belotti, tra l'altro. il terzo è un errore di Wesley Hutt che in pressione di Lukic fisicamente si fa sovrastare e la Lazio prende un gol semplicemente ridicolo. Quindi che... dove vogliamo andare a parare, ragazzi? Cioè, questi gol sono completamente casuali, non sono frutto di una preparazione. La panchina è semplicemente ridicola. Ridicola. E oggi Giampaolo, proprio per mancanza di giocatori, si è dovuto adattare a un 4-3-3 con Lukic falso on well. Ok? Questo dà l'idea un po' della situazione in cui siamo finiti, no? O sbaglio? Verdi. Ho lasciato al meglio per ultimo, ragazzi. Verdi. Basta. 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 È una sofferenza continua, Verdi. Ragazzi, non si può. Cioccolatino di Belotti da solo davanti al portiere. Completamente solo. Anzi, anche davanti al portiere. Porta spalancata. Palo. A due passi. Era così, cazzo di distanza. Cioè, sta roba è scandalosa. Sta roba è scandalosa e non si può vedere. Verdi deve smetterla perché fosse l'unica partita in cui si mangia i gol davanti al portiere già fatti. Qua, senza portiere, tra l'altro, Sassuolo, Lecce, questa squadra qua, dai, Lazio, è l'ennesima. È l'ennesima dei tanti. Veramente, non sarà neanche l'ultima dei gol mangetti da Verdi. Caspita, c'è una conversione di tiri in porta che fa invidia a lasagna. È una roba imbarazzante. Imbarazzante. Basta. Cos'altro c'è da dire, ragazzi? Per il resto, ripeto, singolarmente, qualche giocatore ha fatto anche bene, ma è nel complesso che la squadra non gira. E non gira dall'inizio del campionato. E i miglioramenti si vedono a sprazzi e poi non si vedono più. È una roba scandalosa. Anche oggi la Lazio ci ha sovrastato, ha tenuto in mano il pallino del gioco e non ha giocato bene la Lazio. Anzi, se uno non vede i minuti di recupero, fino al 96, uno dice che Torino probabilmente ha meritato la vittoria. Lo dice tranquillamente. E poi arrivano i supplementari. E guardate che cosa è successo. E queste cose, queste cose, per quanto sfigate, per quanto sfortunate, noi non riusciremo mai a farle e portarle a nostro favore. la fortuna e la sfortuna ce li si deve guadagnare. Bisogna guadagnarsi la fortuna e anche la sfortuna. La Lazio ha portato alla sua il momentum. Noi no, non riusciamo a portare il momentum a nostro favore. Un dato che conferma questa mia affermazione, il fatto che siamo la squadra che ha perso più punti in tutta Europa, adesso ufficialmente, da situazioni di vantaggio. In vantaggio due volte, adesso rimontati e abbiamo pure perso la partita. Zero punti. Questo vuol dire che abbiamo siglato un record negativo nella storia del Torino, ragazzi. Solo dati positivi, praticamente. A chi criticava me e diceva costantemente che sì, tu sei troppo critico, sei troppo burbero, ci vai troppo pesante contro leccio. Avevo ragione ad andarci così. E non lo dico per vantarmi, perché io faccio un sacco di errori di analisi, un sacco, ragazzi. Io dico semplicemente la mia. Non ho il patentino, non sono un esperto, ma certe cose si vedono subito. Sono sotto l'occhio di tutti. Va bene, e Siriku, tra l'altro, ti prego, non iniziare anche te. Non iniziare anche te, veramente, non sbagliare. Un appello rivolto proprio a te, Siriku, ti prego, non sbagliare anche tu, non fare le papere, altrimenti è finita. Altrimenti non ce la facciamo più, perché sei la nostra unica ancora di salvezza assieme al Gallo. Tra l'altro, il Gallo, possibile, infortunato. Io, ragazzi, non so più che cosa dire. Cioè, questa squadra le ha regalate tutte. Niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Invece, complimenti alla Lazio, che, ripeto, è riuscita a portarsi il momentum a favore. Per me, non è che abbia fatto tanto per meritarsi la vittoria, probabilmente, tutto grazie alla nostra mediocrità. Devo dire che, nel primo tempo, la coppia d'attacco Murici-Correa non mi era piaciuta per nulla, nel secondo, quella che ha esede immobile ancora meno, però, comunque, già qualcosa di meglio, soprattutto che ha eseguito qualche occasione l'ha avuta, ed è stato bravo a procurarsene. E, sicuramente, ha fatto meglio della coppia iniziale, dell'ex Fenerba, c'è e dell'Argentino. Poi, per il resto, si è sentita la mancazza di Luis Alberto a centrocampo, Patrick è un mediocre nonostante l'assist, però, meglio del Toro, sicuramente sotto certi punti di vista. Sempre forza Toro, ci vediamo mercoledì per Torino-Genoa, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale YouTube, mettete mi piace, condividete, seguitemi su Instagram, che io c'ho a calciotoro, ciao ragazzi!